e immediatamente si riparla già di un terrore per la sicurezza nazionale non per per l'influenza che abbiamo dalla russia di putin ma per gli sbarchi ecco questa credo che sia la situazione peggiore e votare il 25 settembre è veramente una scadenza difficilissima un mese di campagna elettorale più o meno nel mezzo di agosto e la cosa più assurda è che la lega parli del degli sbarchi non già perché c'è un problema di approvvigionamento del grano proprio per il nord africa e per i paesi africani ma ne parla e squisita mi dovrebbe fare la correlazione tra quello che sta dicendo la realtà la correlazione tra quello che sta accadendo e la realtà è che la fornitura di grano e sa quanto è impattante per i paesi dell'africa è pressoché interrotta e proprio grazie alla guerra scatenata da putin che è appunto un autocrate con cui il suo partito ha un rapporto diretto anzi ha sottoscritto il suo partito ha sottoscritto anche quest'anno un accordo con putin e con il partito per cui questo parli di quello che sa perché altrimenti no ma è chiaro che per voi bisogna parlare di nuovo di immigrati raccontando delle pensioni raccontando che adesso finalmente sentiamo anche qualche numero mi dà qualche numero per cortesia mi dice quanti sono gli sbarchi ad oggi e gli dico solo che voi avete guardato per cortesia mi dice i numeri poi avete governato per tre quarti della legislatura siete stati al governo fino a due giorni fa e vabbè però se interrompe io capisco che il giochino un po della domanda se vuole dare una risposta io gli sto rispondendo tutto quello che può accadere dalla spinta migratoria alle pensioni alle politiche economiche alle politiche sociali la lega non può dire nulla perché ha governato tre quarti della legislatura oggi state parlando come un qualsiasi partito dell'opposizione che è stato contro il governo in tutti questi mesi invece voi avete responsabilità di governo avevate ministri di primo piano dentro il governo draghi e dentro il governo conte 1 tanto che avevate il ministro dell'interno proprio nella gestione dell'immigrazione oggi non potete assolutamente dobbiamo sempre parlare in astratto oggi dopo aver parlato e sostenuto questi governi non potete parlare come partito dell'opposizione signori scusate allora come si sono accorti degli spettatori però se scegliete degli interlocutori almeno che abbiano competenza di quello che no 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 scusate anche l'oligarca russo senza alcuna correlazione con la realtà l'ultimo oligarca russo intervistato ha detto che ha scelto la lega come alleato per il bassissimo livello scusate scusate mi sembra complicato che lei mi possa parlare di competenza allora i telespettatori non abbiamo avuto un numero no no cambiani cambiani aspetti un attimo allora i telespettatori